Ciao a tutti, nuova puntata dei libri Trasgri, ovvero la rubrica in cui parlo di libri furbetti che amano giocare con argomenti tabù, soprattutto erotici, no? Ma in questo caso abbiamo una puntata un pochino più particolare perché scomoderemo dei nomi di un certo rilievo. No, pensate al Pulitzer, al Nobel, al Goncourt, allo Strega, all'International Book Prize. Cos'hanno in comune? Ovviamente sono tutti i premi letterari. Quindi oggi non parleremo tanto di un libro in sé, ma di un premio letterario che probabilmente alcuni di voi già conosceranno. Però io ho voluto farne un video per quanto siamo fuori tempo massimo in quanto il premio viene assegnato tra novembre e dicembre. Però mi sembrava carino farci un video a riguardo perché è un premio di cui sono particolarmente fan. È un premio per il quale gli autori che si prendono troppo sul serio hanno un terrore a vincerlo pazzesco mentre chi è un po' Trasgri, è un po' Trash, anche se è un autorone affermato e poi ci arriviamo, reagisce secondo me con spigliatezza e non vede l'ora di riceverlo. Io, ad esempio, se fossi un autore acclamato non vedrei l'ora di vincere questo tipo di premio. Il premio che cos'è? Il premio si chiama Bad Sex in Fiction Award. È un premio istituito dalla rivista letteraria britannica Literary Review. È stato fondato nel 1993 e in sostanza premia la peggiore scena di sesso contenuta nel romanzo del dato anno. Infatti è un premio che avviene annualmente nei mesi di novembre e dicembre, dipende dall'edizione. E la cosa un po' assurda è che non vengono presi in considerazione i cosiddetti autori trash. Le varie I.L. James, Anna Todd. Non potranno mai vincere questo premio perché proprio vincerebbero a mani basse. Ma quasi sempre vengono nominati e addirittura vincono autori, autoroni grossi. Se voi ci pensate, basta andare a fare delle ricerche a riguardo e vedrete che magari non sono tra i vincitori alcuni, ma sono stati effettivamente nominati tra i finalisti. Troverete nomi di autori che sono universalmente riconosciuti come maestri. Philip Roth, Haruki Murakami, Jonathan Franzen e così via. Sono veramente tanti. Amos Oz, addirittura stato nominato, a ricordarci cosa? A ricordarci che per quanto tu possa essere un autore geniale, parlare di dati argomenti è sempre molto spinoso. Il sesso è un argomento spinoso, non tanto per quanto riguarda il concetto di tabù che in letteratura, nell'arte non dovrebbe esistere, no? Ma proprio per il fatto che, essendo una cosa che è trattata da tutti, soprattutto in epoca contemporanea, però il rischio è sempre quello di cadere nel ridicolo o di scrivere delle banalità devastanti. O peggio ancora, cercare di scriverne in modo estremamente originale, finendo nella supercazzola. Ed è il caso di molti di questi autori, che pur avendo grandissimo talento, molto spesso cadono in queste... Magari anche all'interno di romanzi definiti capolavori, cadono in banalità, in trashate, quando si tratta di descrivere scene di sesso. Ci sono effettivamente pochi autori che sanno parlare di sesso in un modo estremamente evocativo, sconvolgente, no? Ma anche autori che sono stati nominati per questo determinato premio, il cui scopo è proprio quello di spingere gli autori a soffermarsi maggiormente quando scrivono di sesso senza lasciarsi prendere dall'emozione trasgri, magari gli stessi autori nominati per un libro in un altro libro hanno scritto una scena di sesso straordinaria, no? Non lo so, autori che parlano bene di sesso quando ne parlano, mi vengono in mente Don De Lillo, Paul Ouster, loro sì. Quando parlano di sesso li ho sempre vissuti in modo... Che bello, che bello leggere di queste cose quando ne parlano loro, no? Invece per quanto riguarda ad esempio Haruki Murakami, che voi sapete che è uno dei miei scrittori preferiti, e ho letto praticamente tutto, molto spesso lui, se avete letto anche voi quasi tutto di Murakami lo saprete, molto spesso lui ficca al sesso dove non è richiesto. È un po' uno dei suoi tratti distintivi, nei momenti meno opportuni, e ne parla a volte un po' così, ma è anche il suo bello. Infatti è stato nominato per questo premio, ma non ha vinto, per il libro Tazaki Tsukuro. E voi scorrendo i vari stralci nominati scoprirete delle perle assolute che magari vengono da libri bellissimi, ma che magari leggendolo dici oddio, però non è che ci dai peso. Invece questo premio riguarda proprio il soffermarsi su queste scene e definire qual è la più trash effettivamente. Ci sono autori che hanno paragonato il fare sesso a battaglie di neve, un'altra autrice, non mi ricordo chi, ma è una famosa, che ha paragonato il fare sesso a sbattere i panni, un'altra che in questo caso posso nominarla perché mi ricordo chi è perché l'ho letto prima, Erika Young, che è un'importante scrittrice femminista, ha scritto questa scena di sesso orribile sulla riscoperta della vagina, cioè il partner che pratica del sesso orale, non mi ricordo cosa pratica, comunque va alla scoperta della vagina della partner e questa scoperta viene definita come l'incontro tra Adamo ed Eva, buttandola anche sullo yoga, il new age, lo zen e via dicendo. Quindi sì, fai delle scoperte entusiasmanti, no? Ma noi italiani possiamo essere, possiamo vantare una cosa, ovvero il premio del 2016 è stato vinto da un importantissimo scrittore italiano e so che magari di voi alcuni non se lo aspettavano, però è proprio Harry De Luca. È uno scrittore che a me personalmente non piace, io ho letto solo un romanzo, non mi piaceva il suo stile, però capisco perché piace a molti e ne riconosco il talento, comunque scrive bene, ma il suo stile di scrittura e le sue tematiche non fanno per me, l'ho abbandonato subito, cioè l'ho finito il romanzo ma mi son detto non leggo più niente di lui perché non fa per me. Però lui è il vincitore dell'edizione del 2016 e l'ha presa male ma ha reagito in modo ironico, quindi mi piace. Ci ha detto la classica cosa, è un'insperata pubblicità per il mio nuovo libro, grazie mille, ye ye, non è andato a ritirare il premio. Il libro in questione è Il giorno prima della felicità e la scena di sesso che ha vinto il premio del 2016 come Bad Sex Award è la seguente. Il sesso era un legno incollato al suo ventre, allentò la spinta del bacio, si staccò con uno scarto di fianco, mi rigirò e fui sopra di lei. Sciolse le braccia dalle mie spalle, mi guidò le mani sopra i seni, allargò le gambe, tirò sul vestito e tenendomi i fianchi sollevati spinse il mio sesso contro l'apertura del suo. Era una cosa che lei muoveva, i sessi pronti, fermi nell'attesa, si appoggiavano appena, ballerini tesi sulle punte. Restammo così, Anna guardava giù verso di loro, premette sui miei fianchi un ordine che mi spingeva dentro. Entrai, non solo il sesso, io entrai dentro di lei, nelle sue viscere, nel suo buio occhi spalancati senza vedere niente. Tutto il corpo era sceso nel sesso. Entrai con la sua spinta e restai fermo. Mentre mi abituavo alla quiete, al battito del sangue tra le orecchie e il naso, mi spinse un poco fuori e poi di nuovo dentro. Lo fece e lo rifece, mi teneva con forza e mi spostava a ritmo di risacca. Agittò i seni sotto le mie mani, aumentò le spinte, entravo fino all'inguide e uscivo quasi tutto. Il mio corpo era un suo ingranaggio, non respirava, i suoi occhi aperti, vedevano lontano. Questa è stata nominata come la peggiore scena di sesso letterario del 2016. Voi che ne pensate? Io a leggerla sì, non mi entusiasmo a leggerla nel senso, non è particolarmente bella per me, non è particolarmente evocativa, però ho letto decisamente di peggio, è comunque Harry De Luca, quindi è letteratura di alto livello. È beh che sono abituato alle scene di sesso di L.A. Casey, quindi ormai non mi sorprendo più di niente. Però fatemi sapere voi cosa ne pensate. Io tra gli stralci dei vincitori degli anni scorsi ho letto scene di sesso decisamente peggiori, quindi evidentemente è stato un bell'anno erotico quello del 2016. Anche se dicono che tale libro di Janet Ellis ha paragonato l'atto sessuale a stendere i panni ed era un altro nominato del 2016, boh secondo me è un po' peggio, dovrei leggere lo stralcio intero. Comunque, conoscevate questo premio letterario? Vorreste vincerlo? Io sì. Chi nominereste? Qual è la scena di sesso peggiore che abbiate mai letto in un libro? Io tutte quelle di chiaramente mi innamoro, ovviamente, mi sembra ovvio. Io vi saluto, un bacione e alla prossima. Ciao ciao. Incredibile.